Roberto Vecchioni ritorna a Cosenza per testimoniare il valore della cultura classica e della memoria collettiva. Il cantautore italiano è stato al Teatro Rendano giovedì 17 marzo in occasione dell'avvio della programmazione di attività previste dalla Museio NSRL, che da qualche settimana ha la gestione dei servizi aggiuntivi del Museo dei Brezzi e degli Enotri. Oltre ad essere celebre cantautore, Vecchioni è anche docente e scrittore ed ha presentato il suo libro Il mercante di luce, uscito nel 2014 per Einaudi. A partire da questo racconto, i relatori hanno sottolineato il valore della cultura classica ed il ruolo di sensibilizzazione e promozione dell'antico che un museo archeologico ha nella società contemporanea. Ad introdurre l'evento Maria Cerzoso, direttrice del Museo dei Brezzi e degli Enotri, e Stefania Tarantino, amministratrice della Museion SRL. L'ha presentato il libro Stefania Mancuso, docente unica di archeologia classica e didattica del Parco e del Museo. Di amore per l'umanesimo, di amore per le cose che ci salvano la vita, che sono queste, perché davanti a tutte le avversità, ai problemi e problematiche del mondo, ricordare che il passato è presente e ci ha dato tanto, tantissimo, ricordare che l'arte, la cultura e la bellezza sono fondamentali, è un'ancora di salvezza meravigliosa. Roberto Vecchioni non nega di avere un feeling speciale con Cosenza e la Calabria. Adesso non è che siamo qui a fare sviolinate, perché è inutile pensare di dover dire, poi magari le persone dicono, lo dice perché lo stanno intervistando, non è vero, Cosenza è una città meravigliosa, è una città antica, d'arte, di ragazzi fantastici, è un cuore della Calabria che è altrettanto una regione meravigliosa, dimenticata, perduta, lasciata lì da sola, che è un peccato mortale dell'Italia e che darebbe tantissimo sia dal punto di vista culturale e dal punto di vista lavorativo. L'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo ha partecipato alla conferenza stampa nella sede della Cittadella Regionale a Catanzaro per la presentazione del coordinamento referendario regionale contro le trivellazioni petrolifere fissato per il prossimo 17 aprile, indetto dalle associazioni e dai movimenti ambientalisti dell'intera regione, presenti l'associazione crotonese fabbricando l'avvenire, il movimento Notriv Calabria, Greenpeace, Slow Food Calabria, Legambiente, WWF Italia Nostra. Unanime quindi il coro dei sì, per mettere la parola fine alle trivellazioni, sottolineato con forza da tutti gli esponenti delle associazioni e dei movimenti presenti. L'assessore Rizzo ha ricordato che la Giunta ha aderito fin dal suo insediamento a questa battaglia con la firma del Manifesto di Termoli, mettendo in evidenza come la problematica del disastro ambientale che consegue l'attività estrattiva attraverso la tecnica del franking e dell'airgun non veda di contro un ritorno economico, così come invece la Confindustria vorrebbe paventare. Il consigliere Bova ha ribadito il grande impegno che la Regione ha profuso in questa battaglia, insieme alle associazioni e dai movimenti di tutto il territorio regionale ed ha messo in evidenza, fornendo anche dati che riguardano il PIL, l'occupazione e lo sviluppo della piccola e media impresa e il pericolo che le attività estrattive producono solo danno ambientale senza arricchimento. Siamo molto felici dopo due anni e mezzo più o meno di lavoro, di sensibilizzazione, di continua e pressante insistenza anche sui social media ma anche su tutti i canali di comunicazione in Calabria, siamo felici di poter affermare che un piccolo risultato l'abbiamo avuto, il Nutri di Calabria insieme a Fabricando l'Avvenire ma anche insieme a tutte le altre associazioni ambientaliste che hanno sposato la campagna contro le trivelazioni è un atto dovuto che non avrebbero potuto non fare e adesso possiamo affermare di aver avuto questo piccolo primo risultato. Adesso però bisogna andare a votare, quindi l'importante adesso è sposare appieno questa campagna referendaria e recarsi il 17 aprile a votare, votare sì per bloccare le trivelazioni. Da questo momento in poi noi lanciamo questa campagna in Calabria a creare tantissimi comitati, tantissimi gruppi, qualunque cosa, non ci saranno alcun tipo di problema, l'importante è che si sappiano le motivazioni che ci spingono a chiedere alle persone di votare sì per bloccare le trivelazioni. La Regione Calabria è stata una delle prime regioni che ha appoggiato non solo il referendum ma che ha lavorato attivamente perché si arrivasse a questo referendum. Ha detto no dal primo momento alle trivelazioni, lo ha fatto stando a fianco a tutte le associazioni che si sono spese perché si arrivasse a questo risultato. Questo non è un risultato della politica soltanto, questo è un risultato di tutti gli uomini, di tutte le donne di buona volontà che si sono messi insieme e che hanno lavorato per la protezione del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che sono state al nostro fianco, che ci hanno guidato, che ci hanno dato la possibilità di conoscere meglio le problematiche e con le quali noi abbiamo fatto un percorso di condivisione sincero e convinto perché abbiamo dal primo momento condiviso la necessità di stare insieme per proteggere questo territorio e dalle trivelazioni e soprattutto dall'intenzione di qualche prenditore di venire a fare una ulteriore scorribanda nel nostro territorio e nel nostro mare senza lasciare nulla. Riteniamo che il nostro territorio, la natura che noi possiamo offrire, le bellezze naturali che noi possiamo offrire ai turisti siano molto più importanti di qualche trivelazione che non può dare nessuna ricaduta sul nostro territorio. Anche quest'anno la città di Cosenza ha aderito all'iniziativa Earth Hour, l'ora della terra, il più grande evento globale sui cambiamenti climatici promosso dal WWF internazionale in programma sabato 19 marzo. Earth Hour quest'anno ha compiuto 10 anni. Lo scorso anno sono state 7.000 le città che hanno aderito, spegnendo la luce in 172 paesi e regioni del mondo per un totale di oltre 2 miliardi di persone coinvolte e centinaia di imprese. In Italia sono stati 323 comuni che hanno aderito. A Cosenza, come nel resto del mondo, all'ora fissata, dalle 8.30 alle 9.30 di sera, di sabato 19 marzo, sono state spente le luci di Palazzo dei Bruzzi, lasciando così al buio per un'ora monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private per richiamare l'attenzione su questioni ambientaliste planetarie come la lotta ai cambiamenti climatici. Beni per un valore complessivo di 500 milioni di euro da ricondurre ad affiliati alla cosca di indrangheta di Iannazzo di La Mezzia Terme sono stati posti sotto sequestro dal nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro della Guardia di Finanza. Tra i beni sequestrati c'è il centro commerciale Due Mari, costruito a Maida, tra Catanzaro e La Mezzia Terme, di cui è proprietario l'imprenditore Franco Perri. Il sequestro di beni è stato disposto dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della DDA del capoluogo calabrese. I beni oggetto del provvedimento sono ubicate in varie zone della Regione Calabria, consistenti in beni mobili ed immobili, titoli bancari e società. Il centro commerciale Due Mari, ad esempio, non sarà chiuso, né ci sarà alcuna interruzione della sua attività. Esso è uno dei beni tra i numerosi sequestrati dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata Nettuno. Un pool di professionisti curerà l'amministrazione del centro commerciale, stando a quanto ha riferito la DDA di Catanzaro. In seguito di un'operazione che aveva visto la luce l'anno scorso, l'operazione Andromeda, diciamo che la parte patrimoniale di quell'operazione. All'epoca abbiamo colpito a livello personale i responsabili, i soggetti coinvolti nella cosca Iannazzo, intranei e concorrenti esterni e soggetti comunque riferibili a quell'ambito criminale. Oggi attacchiamo il patrimonio. È una priorità per la direzione settuale antimafia e grazie al lavoro meticoloso, scrupoloso e attento del GICO, della Guardia di Finanza di Catanzaro, del Comando Provinciale di Catanzaro, siamo riusciti, attraverso una serie di valorizzazioni delle dichiarazioni dei collaboratori, di materiale intercettivo e di certamenti tributari, bancari, societari, siamo riusciti a ricostruire il patrimonio riferibile a soggetti coinvolti direttamente o indirettamente con la cosca, a denunciare tutta una serie di soggetti per intestazioni fittizie di attività imprenditoriali. Su espressa volontà dell'autorità giudiziaria, che su questo è stata assolutamente determinata, viene nominata un'amministrazione giudiziaria, con un amministratore giudiziario che si avvale di tutta una serie di professionisti, ciò al fine di garantire la prosecuzione immediata, cioè significa che oggi nessuna di queste attività è stata chiusa neanche per il tempo necessario per l'attività, un salto su un treno in corsa senza neanche una fermata in stazione. L'amministrazione giudiziaria prosegue l'attività e di conseguenza si garantisce la totale occupazione di quella forza lavoro che già oggi è presente nelle imprese colpite dal provvedimento. La Biblioteca Civica di Cosenza ha ospitato lunedì 21 marzo un'iniziativa dell'Associazione Culturale Bruzia Libera dedicata all'universo femminile. Si è trattato di una mostra collettiva di pittura e da un reading di poesia, che ha visto protagoniste alcune artiste che hanno presentato al pubblico opere attinenti al mondo femminile e da questioni di genere. Quattro lettori hanno poi dato letture di celebri componimenti scritti dedicati alla figura della donna. Il titolo dell'iniziativa è stato «Donna, mostra, ti leggerò io il tuo cuore, uomini che leggono di donne» ed ha registrato la presenza di nove artiste. La mostra è stata introdotta dalla relazione di Giulia Fresca e l'intero evento è stato presentato dalle quattro socie fondatrici dell'Associazione, Rita Mantuano, Anna Canè, Monica Capizzano e Maria Antonietta Gullo. Presente anche Anna Viteritti, direttrice della Biblioteca Civica di Cosenza, ente che ha promosso e ospitato l'evento. È bella e consolidata la sinergia fra la Biblioteca Civica e l'Associazione Bruzia Libera. Siamo al secondo appuntamento, organizzato in biblioteca in poco meno di un mese. Particolarmente interessante l'iniziativa di questa sera, una serata dedicata alle donne, quindi un tema quanto mai attuale e complesso. Questo è il secondo di tre eventi che si terranno sul territorio e che sono proprio intesi a parlare di donne, di universo femminile, in tanti argomenti. Quindi abbiamo iniziato l'8 marzo con la presentazione del libro Bianca come la Luna presso la Biblioteca Nazionale, un libro che parla di una donna, di una donna calabrese vissuta in un periodo storico difficile. Stasera il reading poetico con la mostra collettiva inerente alle donne. Termineremo il 29 presso la sede del CONI dove saranno affrontati argomenti delicati come bulimia, anoressia, disturbi alimentari e sport. Si è svolto martedì 22 marzo, nella mattinata, presso l'Aula Magno dell'Università della Calabria, il workshop dal titolo La Metro fa città, un incontro organizzato dalla Regione Calabria a cui hanno dato la loro adesione l'Unical e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza. Nel workshop coordinato dal professor Marcello Panettoni, a seguito dei saluti del rettore dell'Unical Gino Miro Cleclisci, del sindaco di Rende Marcello Manna e del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Menotti Imbronio, il progetto della Metro Trambia Cosenza Rende Unical è stato illustrato dal responsabile unico del procedimento, Ingegner Luigi Zinno, della Regione Calabria. Dall'ingegner Tito Bertinulli, sintagma, coordinatore dell'RTP, dall'ingegner Andrea Renzo, technical spa, direttore dei trasporti, dall'ingegner Giovanni Zallocco, RGSRL, amministratore Unical. Infine, a seguito di un question time fissato per l'una, le conclusioni sono spettate al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Qui è stato dimostrato che i costi di gestione attraverso la tramvia sono fortemente contenuti rispetto a quelli che si sopportano oggi con la mobilità su gomma. Oggi noi paghiamo 3 milioni e mezzo, già la Regione paga per la mobilità da Cosenza all'università, 3 milioni e mezzo. È stato dimostrato qui stamattina che il massimo dei costi è 3 milioni di euro all'anno. È un progetto naturalmente che può essere ancora migliorabile, è aperto, io non ho mai sostenuto appunto prendere o lasciare, assolutamente. È aperto ad osservazioni, a miglioramenti. D'altronde già i suggerimenti che erano venuti sono stati assunti, perché è stato impostato questo progetto su un binario sul tratto di Viale Parco. È stato dimostrato qui questa mattina portando diverse esperienze europee e italiane che questo mezzo di mobilità è utilizzato in città d'arte, da Firenze a Strasburgo, molte città della Francia e della Germania, appunto, è un mezzo che coesiste anche con le isole pedonali in molte città. Vorrei che la discussione, il confronto si sviluppassero nel merito del progetto. Sandro Principe, ex sindaco di Rende e protagonista della vita politica rendese, Bernardo, anche lui ex sindaco della stessa città e l'ex assessore ai lavori pubblici Pietro Ruffolo, oltre che Rosario Mirabelli, ex consigliere regionale e l'ex consigliere comunale di Rende Giuseppe Gagliardi sono i nomi eccellenti tra le dieci persone arrestate insieme a quattro esponenti di vertice della cosca di Indrangheta Lanzino-Rua, molto forte nella provincia di Cosenza, per cui è stata disposta la misura della custodia in carcere, mentre per gli uomini appartenenti al mondo della politica si è fatto ricorso alla misura degli arresti domiciliari. Questi gli arresti effettuati dai carabinieri, del comando provinciale di Cosenza, su ordine della DDA di Catanzaro per un'inchiesta condotta dai PM Vincenzo Luberto e Pierpaolo Bruni. Al centro dell'indagine ci sarebbero accordi elettorali tra politici ed esponenti mafiosi, uno scambio di voti per posti di lavoro. Un meccanismo che ha visto intrecciarsi politica e mafia nelle tornate elettorali dal 1999 al 2011 per il comune di Rende, ma anche per il Consiglio Provinciale di Cosenza nel 2009 ed il Consiglio Regionale della Calabria nel 2010. Grazie a tutti.